buongiorno buon inizio di settimana oggi lunedì 13 febbraio sono sempre qui a levi ieri sera come avete visto dalle poche foto che ho postato sono riuscito a vedere l'aurora molto strano perché le app dicevano che non ci sarebbe stata la possibilità o meglio c'era cielo sereno però l'intensità era intorno al 2 poco meno del 2 kp2 indica appunto l'intensità diciamo che una buona aurora e dal 3 dal 3 in su con il 2 io pensavo che non si vedesse quasi niente se non come quella della prima sera che sono arrivato mentre mentre stavo guidando a un certo punto bomba e ho detto vabbè niente dai oggi saltiamo ero qua in macchina a un certo punto mi arriva un messaggio aurora visibile alle 20 03 ma mancava un quarto d'ora ho detto ascolta non c'è vento erano 22 gradi sotto zero quasi quasi mi metto qui sul sul tablet della model 3 e vedo se c'è una zona qua vicino al buio perché bisogna andare al buio un parcheggio qualcosa un piazzale senza andare a cercare tante tante rogni in giro perché qua è tutto tutto neve neve e ghiaccio e allora mi metto lì e trovo un posto a 3 km da qua isolato poi guardo ne trovo un altro un poco più avanti e metto anche quello in in memoria parto arrivo nel primo posto perfetto c'era un bel piazzale all'interno 30 40 metri lontano dalla strada che comunque riparata dagli alberi quindi le macchine passavano e non illuminavano la zona dove ero io tra l'altro poi l'aurora era dalla parte opposta quindi c'era la strada poi c'era il piazzale dove ero io e l'aurora dall'altra parte quindi io puntavo non dove non dove c'erano le luci quando sono arrivato non c'era non c'era niente poi dopo un poco comincio a vedere un po di di bagliori esco fuori quegli occhi ti devi un attimino attendere che si abituino all'oscurità ma non era scuro comunque e dicono no qua c'è l'aurora tiro fuori il cavalletto comincio a fare due foto a lunga esposizione e avete visto il risultato non era così era lieve all'inizio e allora a quel punto ho detto bene questa è la location buona per fare un time lapse non avevo voglia di tirar fuori i cavi corrente eccetera eccetera ho detto intanto facciamo un time lapse con la batteria che ho e vediamo quanto dura insomma due gradi sotto zero ho detto magari dura un po' e infatti ha durato moltissimo ha durato moltissimo ho fatto più di un'ora di time lapse e mi è andato giù di un attacca solo alla batteria della fotocamera quindi molto molto bene adesso come vedete sto elaborando il time lapse siamo qui a calduccio modalità camp caffettino troppo poco si pranza e io direi così do un pranzato faccio una camminata visto che è una bella giornata vi faccio un po' di riprese del posto e dopo vi faccio vedere delle foto perché dopo ne ho fatte altre una volta finito il time lapse ha calato l'aurora e ho detto va bene niente finito il time lapse che comunque è venuto un 5 secondi non male dopo vediamo magari si riesco anche a rallentarlo ero in macchina e ho detto vabbè cosa torna al parcheggio ma no mi sono messo lì mi sono mangiato un dolcetto bevuto un po' di caffè mi sono messo a guardare un po' di cose al cellulare arriva di nuovo un messaggio allerta 3 cioè prima era 2 poi 3 infatti come ho detto negli altri video c'è una previsione ma non è che sia proprio da prendere al 100% potrebbe non vedersi nulla come potrebbe invece esplodere e vedersi molto di più di quello previsto mi metto a guardare bene la app e io ero proprio nella zona nella zona proprio epicentro quasi della zona alta no del finlandia norvegia caponorte e dico boh sì però qua non c'è niente non lo so aspetta ancora un poco e incomincio a vedere delle cose allora vado fuori ed effettivamente era ritornata l'aurora non come questa del timelapse che prendeva tutto perché prendeva da una parte tutto l'orizzonte finiva dall'altra infatti io con la macchina sono riuscito a prendere poco più di metà diciamo poi c'era ancora più a sinistra più a destra ci voleva proprio un mega grand'angolo io ho fatto 16 mm ci voleva anche di meno però va bene lo stesso così e allora cosa ho fatto? ho detto timelapse basta non mi metto a fare anche perché non era proprio fortissima però ho fatto delle foto muovendo un po' il caballetto un po' in una zona un po' in un'altra e quindi dopo le sistemo e dopo ve le faccio vedere nel video ok e voi dite il timelapse? mettetemi un like sul video e più avanti così lo vedete eccomi sono pronto per la spedizione polare no è che adesso vado a fare una camminata così vi mostro un po' di paesino non fa freddo perché sono due gradi però c'è un vento abbastanza sostenuto e allora meglio coprirsi non si sa mai ormai l'età è quella che è allora prima di partire però intanto vi faccio vedere dove è posizionata questa cittadina questa località dai noi siamo vicini a circa qui c'è un supercharger così potete vedere anche i prezzi ho trovato anche di meno qualcosetta di meno comunque qua normalmente siamo sulle ricariche intorno ai 20 centesimi circa Tesla qua è alta così come anche da noi in Italia qui c'è Kittila io sono andato per questa strada qui e questa è la strada che costeggia il confine che è qua in mezzo il confine svedese siamo quasi in Norvegia e questo puntino blu è dove ero io ieri sera a fare a fare le foto e il video all'aurora è fuori dal centro abitato non so cosa ci sia qua ma c'era una casa un edificio più che altro perché non era abitato c'era questo piazzale dietro fantastico come vedete qua riparato dagli alberi quindi non c'era contaminazione luminosa del traffico e direi proprio una bella posizione allora il paese qui vedete intanto le piste da sci ci sono diverse piste da sci il paese di per sé non è grande adesso facciamo un giretto a piedi facciamo questo giretto qua qui è dove sono io dove c'è il visitor center dopodiché andiamo giù di qua andiamo verso le piste e poi torniamo indietro e facciamo questo giro qua non vi mostro tutto e vi mostro solo quello che c'è lungo la strada e tra poco vi mostro anche un'altra stazione di ricarica dove il navigatore mi ha portato la prima sera e invece di portarmi qua vabbè sono 200 metri di distanza ci sono delle ricariche fast ci vediamo tra un pochettino intanto che mi preparo devo preparare un po' macchina fotografica un po' tutto e poi ci vediamo come vi avevo già illustrato qui ci sono tre colonnine da due prese type 2 ciascuna gratuite sono situate qui al visitor center di Levi questo visitor center è anche un albergo quindi se volete programmarvi una permanenza qui potete venire tranquillamente qua così avete la ricarica non c'è mai nessuno giusto ieri c'era uno per un'oretta ho visto io dopo sono andato a farmi una camminata quindi magari è arrivato qualcun altro non lo so però i finlandesi sono come gli italiani parcheggiano qua davanti senza avere la macchina elettrica non ne frega niente lasciano la macchina lì se ne vanno quindi tutto il mondo è paese vabbè voi vedete qua non ci sono le strisce per terra non si vedono però insomma c'è il cartello ci sono delle luci uno dovrebbe anche cercare di capire che cos'è comunque vabbè torniamo a noi qui abbiamo la reception dentro c'è un piccolo shopping area dove si possono acquistare souvenir maglie, maglioncini guanti, cappelli un po' di tutto c'è un una piccola area si vicina alla reception con divanetti e un caminetto e dopo andando più avanti invece c'è la zona bar, buffet divani poi ci sono i bagni e dopo si va su non sono andato si va su alle camere tutto intorno tutto intorno bisogna stare attenti dove si mette i piedi è tutto un ghiaccio tutto intorno qua la zona non solo qui ma tutta la zona è pieno pieno di lodging di alberghi camere quindi diciamo che questa è la parte dove si alloggia poi laggiù invece ci sono le piste da sci piste qua siamo a 300 metri sul livello del mare 300 e qualcosa qui di qua sono delle colline dove ci sono le piste sì perché qua in Finlandia loro non hanno non hanno montagne almeno da quello che risulta a me se non è forse nella parte andando ancora un po' più su a nord ovest dove dove si va su in si prende la strada per andare su in Norvegia allora forse quella parte lì è un po' più montuosa però è disabitata un po' quella zona da quello che mi ricordo io invece è la Svezia la Svezia ha più montagne allora queste qui vedete lì giù ci sono le ricariche che vi dicevo adesso ve le mostro poi lì giù anche questo fa parte del Hullu Poro Levi Center quell'altro è Hullu Poro Hotel Reception laggiù come vedete qua cosa c'è scritto Bar Night Club Karaoke lì per passare la serata sinceramente magari dopo faccio un salto più tardi per vedere che cosa che cosa fanno che spettacoli fanno a parte che oggi è lunedì non lo so se sono aperti qui abbiamo della recharge una 180 kilowatt qua i prezzi se volete vi scaricate l'app l'app recharge sì perché non sono riportati comunque si dicevo siamo intorno io vedevo l'altro giorno 0,19 per le 22 kilowatt 0,21 per per le 50 kilowatt ma anche le ultra fast anche queste qua secondo me anche queste secondo me costano intorno ai 20 centesimi e poi qua abbiamo la classica 50 kilowatt vediamo se qua dice qualcosa di diverso niente ok proseguiamo verso le le piste da sci qua c'è vento che non è forte però nei momenti arrivano veramente delle folate che poi non è che basta solo la folata di vento no si alza anche tutta la neve e quindi arriva tutta una spruzzata di neve addosso bellissimo intanto che mi incammino verso le piste voi siete venuti qua per vedere qualcosa dell'aurora no non ve ne frega niente di questo posto ovviamente se non dovete venirci parobbio allora adesso intanto vi faccio uno slideshow delle foto che ho fatto ieri sera alcune delle foto perché poi insomma ne ho scelte un poche e dopo vi racconto le mie impressioni un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti. 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 E si nota molto quando c'è l'aurora e quando non c'è l'aurora perché poi quando è finito tutto io mi sono ritrovato praticamente quasi al buio. Non vedevo tanto la neve, il piazzale, la neve che c'era nel piazzale. Mentre quando c'era l'aurora, non era chiaro, però era molto più chiaro. E infatti se guardate le foto e guardate anche il tetto dell'auto, ma questo lo vedrete meglio nel timelapse, si nota il riflesso della luce verde sul vetro e sulle cromature dell'auto. Invece sulla neve non si vede che è verde, perché altrimenti verrebbe la neve verde, invece non è così, se avete visto. Però illumina. Tanto siamo arrivati qui delle piste. Beh, che bello. E quindi dicevo, c'è questa cosa che ho notato e chiaramente si vede dopo, quando al computer ti metti lì e sistemi le foto, ma soprattutto quando fai il timelapse, che lo vedi, lo rivedi, riesci a capire tutte queste sfumature. Però è bello anche essere lì, perché io in certi momenti quando ero fuori, allora io non è che ero sempre fuori, io quando sono arrivato ho detto la prima cosa che faccio è devo fare il timelapse, perché finché c'è l'aurora mi conviene approfittare faccio il timelapse. Allora cosa ho fatto, ho tirato fuori il cavalletto, posizionato un po' più o meno la, composto la scena, metto il cavalletto, faccio un po' di prove, freddo, e ho dovuto fare tutto prima che mi si congelassero le mani, boh, piazzo la macchina e la mando, e la mando all'infinito. Ecco, ho messo 25 secondi, sì mi sembra, 25 secondi di apertura, di scatto, e alla fine ho fatto un'oretta di riprese, che poi alla fine sono venuti fuori, come vedrete, pochi secondi, 4-5 secondi. Dopo io ho rallentato un po' il video, quindi quello che vedrete dopo è rallentato, quasi la metà. Mando avanti, metto in posto la macchina, parte, tac, vado in macchina ovviamente, mi metto in macchina, e lì ho cenato. Ho fatto cena, tranquillo, una volta finita la cena, sono andato fuori, e ho continuato a guardarmi l'aurora, ovviamente, mentre cenavo, sempre, hop, testa giù finestrino, guardavo fuori. Quando sono uscito poi, con gli occhi poi ti riabitui al buio, ho visto che l'aurora in certi momenti era velocissima, in altri rimaneva sempre in quella posizione, poi cambiava, sfumava un poco, da una parte si intensificava, dall'altra invece andava a scomparire, però in certi momenti, ma anche cose che hanno durato veramente pochi secondi, che dici, cavolo, lì dovevo fare la foto, perché incomincia a storgersi, a fare delle forme strane. E questo è successo dopo, dopo che io ho fatto il timelapse, perché poi era finito praticamente tutto, mi sono rimesso in macchina e ho detto, erano le 11 circa, ero lì dalle 8, ho detto, tanto che mi frega, cioè io posso anche eventualmente dormire qua, nel piazzale, non ho bisogno di tornare nel paese o alla ricarica o qualsiasi cosa, ho detto, sto qua e faccio le mie cose intanto qua. Ho passato un po' di tempo lì e mi arriva appunto, come dicevo prima, il messaggio, che torna l'aurora, guardo fuori, niente. Dopo un poco dico, boh, ascolta, ma intanto mi arriverà il messaggio che non c'è più niente, è finito, è stato bello, andate tutti in pace, andate a dormire, che intanto non c'è più niente. Esco e sto lì, mi godo quel poco che c'era, però intanto quel poco appariva, scompariva, riappariva, scompariva e effettivamente dopo è tornato. È tornato e infatti avete visto le foto che sono diverse da quelle del timelapse, con intensità minore, perché l'intensità era minore, però mentre prima c'era questa intensità maggiore e copriva tutto un arco di 120 gradi, più o meno, dopo invece era in due zone diverse, soltanto in due zone diverse, con delle forme diverse. Lì ho fatto un po' di foto e poi alla fine, intorno a mezzanotte quasi, mi è arrivato il messaggio andate a dormire, che intanto l'aurora si è andata. E quindi così dai. Qui invece abbiamo un piccolo centro, ci sono un po' di negozietti, pizza. Allora, i prezzi qui in Finlandia sono leggermente più cari rispetto ai nostri, non tantissimo, però un po' più cari. Qui sicuramente saranno abbastanza alti. Allora, guardavo questo ristorante, perché c'è il menù. Praticamente, ho dato un piatto così veloce, veloce, un piatto a base di renna con patate e verdure in salsa di vino, senza il bere, 39 euro. La cosa che ci può anche stare, insomma, dai. La cosa che invece non ci sta, e ve lo dico dopo, adesso vediamo questo. Ecco, questa qua è già una cosa più normale, non più facile, Gli hamburger, da 13 euro il cheeseburger, poi i 15, 16, 17, 19 euro. Sì, che comunque non comprendono le patate, quindi è soltanto l'hamburger. Dicevo, quello che invece non ci sta qua, ma anche nei supermercati, è il prezzo dei dolci. Boh, io sono goloso di dolci, no? Non è che compro sempre i dolci, però mi piace guardare cosa hanno, no? Poi se magari c'è qualcosa che mi ispira, anche prendo. E questo lo guardo in tutti i paesi dove vado, sempre. Ma qui, per dirvi, un kraffen, 3 euro. Se proprio, proprio, proprio va bene al supermercato, 2 euro. Un kraffen. Cioè, anche la Norvegia... Anche la Norvegia... Non era neanche tanto cara, eh? Da quel punto di vista lì, perché almeno i dolci, quando me ne andavo al supermercato, boh, trovavi anche in offerta. Ma comunque, sì, non eravamo... A quei prezzerini, no? E non vi sto parlando di qua, località turistica. Vi sto parlando, in generale, di tutta la Finlandia che ho fatto fino adesso. Tutti i posti dove mi sono fermato. Boh, allora, vi sarete anche già stufati. È arrivato il momento, Adesso vi mostro il timelapse. Ve lo... Ve lo... Siccome durano pochi secondi, e magari lo volete rivedere, ve lo metto in sequenza un po' di volte, così è un po' più facile. Perché dura circa 8 secondi. Così magari potete gustarvelo un po' meglio. Io me lo son visto già non so quante volte. Ormai ce l'ho impresso nella mente. Sicuramente sarà una cosa che non scorderò. Poi vediamo. Adesso, nei prossimi giorni, qua purtroppo non ho messo brutto tempo. L'Aurora però è quella che è. Non ha tanta potenza. Però, come dicevo, non si sa mai. Può spuntare all'ultimo momento. Possibilità di vederla. Diciamo che... Boh... Uno o due giorni... Meno sto qua. Perché poi, sabato e domenica, hanno messo... Potenziale tre. Quelle foto che ho fatto io, erano uno e mezzo. Neanche. E si vedeva già anche a occhio nudo. Tre. Infatti... Fino a due mettono colore verde. Tre. E giallo. E... Quindi molto probabilmente sarà potente. Il problema è che qua, sabato e domenica, vabbè che sono previsioni troppo lungo termine. E soprattutto qua, Scandinavia, al nord, il tempo cambia così repentinamente che previsioni valgono quel che valgono. come già mi aveva detto il mio amico Sandro che saluto. Mi manca, mi manca la Norvegia. Sono a un passo, eh. La tentazione è forte, però per il momento stiamo qua. Ci sono anche altre cose da fare. Devo fare un altro viaggio, quindi. Però non nascondo che un pensierino alla Norvegia ce l'avevo fatto. Però ci devono essere troppe troppe condizioni che si incastrano. Per il momento non ci penso. Per il momento adesso sono concentrato qua sull'Aurora. Quindi vediamo come va nei prossimi giorni. Fino sabato e domenica se cambiano le previsioni sto qua. se no vedrò con l'avvicinarsi del 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 momento andrò a cercarmi una zona di Sereno in Finlandia. Non so dove. Vedremo dai. Buongiorno ragazzi vi lascio al timelapse ci vediamo dopo per saluti e vediamo se mi viene in mente ancora qualcosa da dirvi per chiudere il video. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.